Il figlio si è laureato e il papà gli deve fare un regalo bellissimo. Il figlio si è bello. 110 euro. Mi fanno un regalo, mi fanno un regalo. Mi fanno un regalo, mi fanno un regalo. E mi fanno un regalo. Mercedes SLK 9 ha il merito. Papà si, è una Mercedes, bella. Mi fanno una Mercedes. Io ho capito. Io ho capito. Mi fanno un sforzo. Porsche Carrera 4 Cabrio. Una macchina eccezionale. Pagazzista e bretta. Tal meriti e mitatore. Bravo! Sì papà, ho la Porsche. La macchina. Mi fanno una Porsche. Che bello. Mi fanno una Porsche. A fare un sforzo. Io ho capito. Io ho fatto un sforzo. Ma te lo vuoi to. Ferrari, Scaglietti, nuova, pacca, 12 cilindri. Pagazzista e bretta. Zile aurea. 110 euro. Tal meriti in breve. Ragazzi, mi fanno tu. Sì papà, la Ferrari. Non hai la Ferrari? Sì, sì. È bella. Ma come vuoi? Beh, papà, vabbassà. Negris. La Renault? No? No? Grazie a tutti.